Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato una nuova poesia dal titolo Non cercate vendetta. Spero che dopo la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Non cercate vendetta perché secondo me a volte rispondiamo al male con il male. Questa non è giustizia, sarà una cosa indecente. Non bisogna appunto rispondere con il male che ci fanno altrimenti facciamo lo stesso errore delle persone che ci hanno arrecato un danno e ci abbassiamo allo stesso loro livello. Quindi dobbiamo essere superiori dal punto di vista dell'umiltà e pregare affinché si possa superare questa soglia della barbaria subita dalle persone. Quindi se pagherete dalla stessa moneta chi vi ha fatto del male vi abbassate allo stesso sbaglio quindi non sarà appunto una cosa logica. Bisogna cercare invece di capire la gente e il perché di quest'azione subita di vendetta e crescere nel giusto, nella cosa veramente logica bisogna ricavare buon frutto appunto dando il meglio di se stessi e capire il perché di questa azione subita facendo capire a chi ci ha fatto qualcosa che non bisogna fare questa cosa qua. Ecco, vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Non cercate vendetta. Se rispondete al male compiendo altro male sapete che non è giustizia? Sapete che sarà indecente? Se pagherete con la stessa moneta chi vi ha fatto tanto male sapete che farete lo stesso sbaglio della gente che state a criticare? Cercate invece di capire la gente e di crescere bene nel giusto guadagnerete tanto veramente perché nella bontà tutto fa frutto grazie e speritelo a tutti i vostri contatti Whatsapp arrivederci